Siamo in compagnia del dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Pitagora a Rio Nettoiano. Nei giorni scorsi la scuola è stata chiusa perché sono stati visti dei topi in giro. Che cosa si è fatto? Allora, devo dire che dall'inizio dell'anno scolastico sono state segnalate presenza di ratti all'interno del cortile, soprattutto di pertinenza della scuola, e sono state effettuate tre derattizzazioni di cui la penultima, appunto nel caso di specie, in data 7 novembre con rimozione delle esche, quindi sospensione dell'attività didattica e rimozione delle esche l'otto il giorno successivo. In data 9 novembre si è riverificata la situazione con un filmato in debito e immediatamente ho ritenuto opportuno convocare qui la ditta che si occupa appunto di derattizzazioni per tutte le azioni da mettere in campo. Tanto è vero che si è deciso immediatamente, già venerdì scorso, di procedere al cosiddetto trappolaggio con permanenza delle esche nelle giornate di sabato, domenica e rimozione delle stesse, lunedì 14, appunto stamattina. Preside, l'ultimo inconveniente, diciamo così, si presume che possa essere fatto ad arte? Io penso che sia stato studiato e soprattutto chi è l'autore materiale del filmato sicuramente dovrà rispondere in quanto io voglio ricordare che come in tutte le scuole è vietato fare filmati all'interno della scuola soprattutto una diffusione con danno d'immagine e di procurato allarme. Io stesso ho provveduto già venerdì presso la polizia locale a proporre denuncia appunto alla Procura della Repubblica chiedendo la rimozione e l'oscuramento dei filmati e quindi poter far luce su questo caso che sembra studiato ad arte. Quindi si presume che questo punto non dovrebbe più capitare? Sicuramente, ripeto, l'ultima derattizzazione di stamattina è stata rimosso tutto quanto e c'è una vigilanza e un controllo attento da parte mia e del staff di Vicepresidenza oltre che di tutto il personale ATA. Quindi il problema dell'igiene in questa scuola è un problema che sentiamo tantissimo anche perché abbiamo un cortile di pertinenza abbastanza ampio con animali di varie specie che spesso e volentieri ritroviamo qui a tracce di questi animali e quindi siamo sempre molto vigili affinché questo possa non inficiare sia l'igiene sia l'ordinario svolgimento delle attività didattiche. Mi dispiace che gli alunni in tutto questo hanno fruito di una giornata di sospensione convocata in maniera indebita e questo sicuramente va a detrimento del loro apprendimento ma di questo poi ne parleremo nelle sedi opportune. Grazie.